Una donna di scienza, un modello da seguire per grandi e piccini. L'istituto comprensivo Vincenzo Pagani ha scelto di intitolare la scuola secondaria di Campofilone a Margherita Hac. Sono stati gli studenti, dopo un vero e proprio ballottaggio, a decidere che fosse proprio lei il personaggio giusto per ispirare le giovani generazioni. Sono molto contenta che il nome di Margherita Hac è risultato vincitore perché è una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana ed è la prima donna che ha diretto un osservatorio astronomico in Italia. Parole efficaci quelle di Giorgia e pronunciate con quella sicurezza di chi è ormai abituato a rivolgersi alle grandi platee e lo fa con una certa dimestichezza. Lei infatti dall'anno scorso è stata eletta sindaca della scuola di Campofilone attraverso delle vere e proprie elezioni con tante di schede elettorali uguali a quelle che molti di noi si ritroveranno ad usare proprio in questo fine settimana. È un progetto di educazione civica che nasce da tanti anni. Lavorano proprio non solo con la scuola ma proprio con il sindaco e con il consiglio comunale quindi è un'iniziativa veramente congiunta con le amministrazioni che sono titolari proprio di queste elezioni. C'è la campagna elettorale, i programmi delle liste, ci sono quelli che presentano le liste quindi è una sorta di palestra di democrazia dall'inizio alla fine. A colpo d'occhio, oltre ai disegni, le incisioni e i piccoli capolavori dipinti alle pareti si nota un dettaglio in questa scuola che non passa inosservato. I ragazzi si spostano spesso da un'aula all'altra. Non è una trovata dei docenti di educazione fisica, bensì un vero e proprio progetto che si chiama Dada. Ti piace Bruno l'idea di spostarti in aule diverse? Sì perché ti puoi adattare in più aule, ci stanno anche i suoi arredi per quelle materie quindi è meglio così.